Prima di avviare il video, vorrei farti un piccolo promemoria, schiaccia il bottone, iscriviti, e lascia un bel mi piace. Grazie mille. Ora, passando alle notizie. Dopo i singhiozzi di Belen per il suo ex, sembra che nell'aria ci sia un'interessante novità, un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal magazine Gente, sembrerebbe proprio così. Pare che la showgirl argentina e il conduttore campano abbiano trascorso del tempo insieme al piccolo Santiago. Il settimanale ha addirittura pubblicato una serie di scatti che suggeriscono una sorta di tregua tra i due ex. Belen è stata sorpresa mentre entrava nella casa milanese di Stefano e usciva insieme a lui, per poi accompagnarlo a prendere il figlio a scuola. Insomma, una sorta di riavvicinamento. Ora la domanda è, è tutto per il bene di Santiago o c'è dell'altro? Il web non è certo rimasto indifferente a questa notizia. Ci sono molti fan che sperano in un chiarimento tra i due, considerando tutto ciò che hanno passato insieme. Alla fine, sembra che Belen e Stefano siano destinati a ritrovarsi sempre, secondo i pareri dei loro seguaci. C'è persino chi sogna un ritorno di fiamma. Che emozione, vero?